musica bello a tutti ragazzi siamo qui oggi su GTA e cominciamo subito con una partita su Top Fun adesso vediamo se saranno 1, 2, 3 adesso si vedrà io sono questo che è un VIP contro uno che è del Lord Demon The Best si comincia bello a tutti ragazzi siamo qui oggi su Top Fun per una nuova puntata di GTA eccoci qua ragazzi allora io devo scappare da quel bomberissimo che mi sta inseguendo con il suo caccia bello 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 e mi sa che mi fa il culo come una come un non so cosa cerchiamo di non cadere cerchiamo di di darlo il meglio di noi no no grandissimo e si va a vincere subito ragazzi e si va a vincere subito con questa esultanza da bombilissimo e si va a vincere subito facciamo adesso un'altra partita su Top Fun sempre si fa il culo si parte prendiamo il caccia facciamolo il culo allora io non mi ricordo che sul caccia come si fa sul caccia a sparare eccetera è da un casino che non gioco a GTA tipo da due due da tre o quattro mesi in un gioco ok si parte ok allora troviamo il VIP eccola ma dai che cazzo l'avevo quasi preso cazzo quasi preso non mi sto capendo più non cazzo a parte la guida che sta facendo proprio schifo come sto guidando non mi riesco a capire dove cazzo è lui e dove come cazzo prenderlo speriamo mi si dia a caso tanto sono infiniti e ho paura che mi si ferma l'elicottero sia l'elicottero il caccia dove minchia è ecco pazzia tanto per prendiamo un po' più di velocità ti prego non toccare non toccare bravo bravo rallenta 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 ma dai va fanculo che cazzo è che cazzo è che cazzo è che cazzo è si va a vincere signori si va a vincere che cazzo è come adesso facciamo top fan 2 e ci vediamo la allora si comincia prendiamo subito la nostra auto esotica si comincia partiamo subito ai 250.000 all'ora e cerchiamo di non sbagliare niente si benissimo attenzione che il nostro VIP è un livello 84 signori 84 e mi sta arando il culo detto in termini schietti schietti mi sta proprio scendendo il culo e mi sa che mi prenderò porca broia è qua lo sento vai dentro frenata e sgommata per schivarlo e mi sa che ha funzionato non so dove si è andato inficario cazzo 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 lo vedo è là è là dai nico muoviti 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 il culo dai porca troia oh oh offroad vedo un caccia là sopra che cazzo è ma che cazzo è che rompe i coglioni merda sento gli spari sento porca troia non prendermi porca troia ma non mi ha acceso come cazzo ha fatto a cedermi mi stiamo scherzando mi prende per il culo allora guarda lo sborrone demon lord the best signori very good very good un cazzo allora ragazzi dobbiamo fargli il culo abbiamo un solo opportunità un solo cazzo e un'infinità di missili questa cosa mi piazza 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 molto 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 vai nico storm vai nico storm allora vediamo un po' cerchiamo di schiantarci subito nei primi metri si continua così a volteggiare nell'aria come le giadre come un micello in primavera e l'ho mancato di un soffio che cazzo l'acrobazia intanto per rendere spettacolare un po' tutto e per facilitarli schianti insomma perché visto che siamo molto bravi infatti cerchiamo di schiantarci vedo lo vedo merda si schiva tutto qua pronti ragazzi si è pronti è qua mi gira intorno mi gira intorno cambia rotta sotto cerchiamo di cerchiamo di eluderlo un po' facciamo una mossa evasiva dove cazzo stai andando dove cazzo stai andando la smetti di stare qui sotto porca troia siamo ancora in in aria siamo ancora in aria ce la si può fare ce la si può fare dove mica è ce l'ho dietro spegnere i motori benissimo insomma comunque GP13 bravo facciamo dai facciamo che bello che bello che bello ti haro il culo adesso dai vota cazzo quanto ci metti devi votare comunque signori per oggi è tutto ci vediamo alla prossima vi ricordo di lasciare un bel like un commento e se vi è piaciuto il video di condividere con i vostri amici e ditemi cosa ne pensate se volete che continui questa serie o meno ci vediamo alla prossima qui da Nico Stratrici e demon lord the best è tutto bella ragazzi ciao 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 ciao